Musica Buonasera a tutti e benvenuti Bentornati in un nuovissimo Episodio del Great Harmony Devo ammettere che è passato un po' Di tempo dall'ultimo, anche se l'ultimo Mi ricordo l'abbiamo fatto in live forse Colpa tua direi, sempre colpa mia Vero, c'è sempre qualcosa E a me non saluti? Eh, giusto Saluto Azenka, saluto Azenka Ciao Azenka, come va? Tutto bene? La vedo? Sì, tutto bene La vedo un po' senza corpo Eh? Salve Tutto bene? Sì Ho fatto niente, c'è un vetro per capello Per cappello Hai un cappello, un vetro per cappello Vai, comunque Ragazzi, avete notato qualcosa di Differente? Esatto Abbiamo aggiornato tutto Il server, non è ancora aperto Se vedete un po' tutto cambiato Perché abbiamo aggiornato un po' tutto il mondo Del Grey Thermory Quando rientrerete Sarà tutto nuovo Sarà Al bacio Sarà nuovissimo E Non sarà come prima Potete prendere tutte le armi Dopo va annoiato Potete prendere tutto Sarà tutto diverso Ma tutte le cose Le spiegheremo Nella live Quando aprirà Non mi inizio a spiegare tutto adesso Perché sennò Facciamo il salto della fede Salto della fede Opla Eh sì Troverete un po' questa Hub Un po' Non nuova Diciamo Perché? Come puoi spiegarla? Eh Io direi già vista Da qualche parte Già vista? Eh da qualche parte Però Ci piaceva E quindi abbiamo deciso Di riportarla Perché tanto è un hub Ai vecchi albori È un hub scaricabile Quindi sinceramente A me piaceva Quindi C'è qualche modifica Sì Come l'ha scritta Great Thermory E ovviamente Le varie zone Che spiegheremo sempre Nella live Che aprirà in diretta Quindi niente Direi Lo farò io Perché lui è una linea di merda Comunque Sembra di infacciarlo Ok Questo è per andare Alle army personali Due spade incrociate Via Ok Ah vi ricordo Che come l'altra volta Perché è wash Perché non riesco a toglierlo Vi ricordo Vi ricordo Come l'altra volta Questa volta ci sarà Il vecchio giochettino Ovvero Trovate la differenza Non è come l'altra volta Perché vedete Che le skin Le abbiamo identiche Cioè le nostre solite Non sarà come l'altra volta Ci sarà un'altra modifica Che è un po' più nascosta Per notarla Stavolta dovrete essere Un po' più attenti Dovrete seguire la sede Da un po' di tempo Quindi Ditemi voi Cosa notate di diverso Stavolta Il primo Quello scrive nei commenti Aprite gli occhi Aprite bene Yoshi Drizzate le orecchie Irva Yoshi Il naso Perché il naso? E così Perché mi stavo grattando Il naso Ah ecco Perché se no Ir Tira sul naso Si fa un po' fatica E oggi faremo vedere A due anni personali Ah Perché mi ha interrotto Stavo finendo Il discussion Non mi confondo E chi indovinerà per primo E mi avrà inviato Una sua arma Non cercate mica Di farmela fare a me Una vostra arma Fatta da voi Parteciperà al prossimo video Il primo che mi scrive Al massimo Diciamolo Al massimo Se non siete capaci Ma avete già i config Mandategli i config Ecco E ci do una sistemata Io provateci A me è importante Che almeno ci abbiate provato È importante che non ci dici Ah Non ci dita E noi non sappiamo farlo Faccelo tu No Perché tantissimi È ovvio che tantissimi Di voi non sanno fare Non pretendo Che siate dei geni A farle Ma come l'arma Dell'altra volta Che è riuscito a far Cioè sono Votemimoria Con i nomi Sono veramente scarso Anonymous Non sbaglio Si chiamava Che aveva un nome comunissimo Ha provato a farla Ci ho dato una sistemata Alla fine era carina E ho capito No Provateci Provate Adesso basta le cianci Che abbiamo fatto Un'introduzione Lunga 40 anni Direi Che direi di partire L'arma Anzi Questa la devi anche togliere Ha ragione Hai ragione Questa qui è diventata L'arma Un'arma pubblica Questo cazzo Eh No niente Tutto ok Tutto ok Allora Predatore Le tue armi Non le farò vedere Stavolta Per un semplice motivo Perché ne ha inviate Tre E tre ci faccio Un episodio Quindi ci sarà Probabilmente una cosa Dedicata Probabilmente alle tue armi Perché sono tante E erano tutte carine Non ho potuto sceglierne Una sola Perché erano carine Quindi è di partire Subito A quella dopo ancora L'arma sarà L'arma di cui Pronuncia questo Sasiol Sasia Sasiol Sasiol Madonna ma che nome Ma scegliere No Perché Tre volte Puff Ma già lo richiudevo No perché dovevo aprirlo Eccole qua Le armi di Sasia Cos'è la devizza Sì Un'arma dedicata a me Questa allora Non la facciamo vedere Perché no Perché no È dedicata a te Pussa via No ma è dedicata A far vedere in un video Comunque E non funzionano I cartelli Devizzatore E endermenatrice E sono due armi inviate da lui Guarda che bel mio Guarda che mio faccione Che brutto Guarda Mamma mia È orribile Questo cos'è È una carie Guarda la mia skin Guarda la mia skin In teoria Sì ma tu hai due denti Non uno Sì ma non ci stavo di spazio Eh Guarda Spostati Ma sembro Spostati Ma sembro monco così Così Ok guarda Che sorrisone Sembra che ho tipo Cosa Ma tu vai sempre dal dentista Quindi Allora 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 Comunque E questa di Alessio Alessio Non mi ricordo se me ne ha inviata una Eh Ma non ci arrivo Ok Ora sì Zero Ecco qua Arma di Alessio La bella casettina Casa Nel basso Tattarattata Mo ragazzi Il mio paese Ha questo Vabbè Non riesco a dirlo Quindi No 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 Leggi No Non lo riesco a dire Lo leggo io Mo ragazzi Come ci dice il mio paese C'è a quest Fato la legna Ma lo dico Come si dice E con l'agnoso Andiamo dai È un'arma dedicata Anche questa a me Dai Andiamo Abbiamo tre armi No aspetta Tre armi personali No Aspetta Come l'avevo chiamata Buscaiolo Ok Eccola qua Eccola qua No perché si confonde Con la mia arma personale Quindi Devo scriverlo per intero Leumas Leumas Sembra quello Del signore dei anelli Legolas Leumas Vabbè Dai si asomiglia Ok Ultima arma personale Per questa volta Si apre Puff Guarda che bello Questo mi piace un casino Guarda le mucche Questa è bellissima Questa è non bella di più Vabbè Comunque Arma magica Che crea discussione Discussione Perché io so leggere Qui c'è scritto Distruzione Capito no Io so leggere Distruzione Dolata Leggi tu per favore Non ce la faccio Leggi tu Arma magica Che crea distruzione E ma devi dirvelo tu E qua E qua E qua E qua E questo po' di scartelli Dovunque vada E luce fu Perché Perché Dove 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 leggere Fire wizard Oddio Shot get Fire wizard Come ci scrive È wizard Oddio Come si esce Adesso da qui Fatemi uscire Fatemi uscire Oh Così si esce Dai no Adesso ho dovuto Toglierlo tutto Vabbè Tanto qui dentro C'è tra ramai Ok Te le passo Tutte e due Se non le hai prese La Ma le ho prese tutte Tranne quella Ma io sono Uno che ci dà da fare Ok Preso tutto Quindi vado E vado qua E io vado Vado in volo Non vi voglio fare vedere Il menu Non vi spoilerò un cavolo Quindi vado a piedi E vado qua Skygrade Probabilmente cambierà Questo Ragazzi Direi anche Questo spawn Fa cagare E lo modificheremo Io ti chiamo Te non vieni a vedere Quindi dopo faccio le cose Come riesco a farle Va bene Ascolta Ma Mette una copiata Ti faccia così tanto schifo Ma è copiata Appunto Dove l'hai Cosa dai simpson È bruttissima Perché non mettiamo Un hub Uno spawn Dei simpson Qui Eh però Deve essere bello grandino Una bella casa Bella grandina Si deve stare Non ti preoccupare Lo guardiamo Comunque Allora Dove andiamo E la descrizione C'è scritto Legna Legna Bella descrizione Boom Mettiti Torniti la creative Vediamo quanto danno fa Mi sa che fa male Vuoi l'armor Un colpo Uno Un colpo Un colpo No God Forse C'è una cosa Sì avevo la God Vai No qui non si può fare PvP Allo spawn Madone L'hai creato Tu sto server Ne ho create Tante Dico Non vedete I punti Sulle K Piano Piano Cristo Ti ho shottato Fa un po' malino Come arma Ma è normale Non metti Ditorno niente Vabbè Mi son bussato di sotto Vabbè Ma non è che son morto Cadendo di sotto Son morto come ha shottato Ma per favore Adesso faccio io Faccio io Vieni qua Tipa tu L'altra arma È l'endermenatrice No non abbiamo visto bene La boscaiolo Vieni qui Allora la devo farla La devo farla vedere Tagliati dalla creative No anzi Colpisci mi Perché la dobbiamo vedere Muoio subito Se no Eh Ma tanto non arriviamo a vederla Ma perché mi vuoi morto Dai Ma perché mi vuoi morto E vabbè Dai No Questo mi sa Che La dobbiamo sistemare Se la vorrai qui dentro No ma per tanto le cose Te la dovevo sistemare Prima paga 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 È una semplicissima ascia Che fa così Pum E fa pezzi di legno Non è niente esagerato Però dai È carina Semplice E mi piace L'arma L'altra arma Non mi metto Non mi tolgo neanche Perché è talmente semplice No 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 Vieni qui Vieni qui Dobbiamo provarle tutte Sì appunto Ma quello stavo facendo Ecco vai Metto in survival Pronta Ecco Finita? Ti da generazione Ma È carina però Shot Get Eh sì Buonasera Non so scrivere Eccola qua Devizzatore Usalo per curarti Deviz L'ha fatta apposta Se sto male Hai capito Che È caputo Adesso Ti va Vedi Taccio così E Da Assorbimento 2 Quindi mi da più cuore E rigenerazione 4 Beh Beh Abbastanza Questa invece è l'Ender Endermenatrice Ma si potrà dare un nome così Cioè Endermenatrice Hai taglieti dalla survival Pronto vai Ma te la fanculo tutti Ma dovete mettere tutte 300.000 di danno Queste armi Ma dateci un po' di meno Tutte le volte Però devi mettere la scritta Davids Stati ucciso da Senka Non ce la metto Non ce la metto Apposta Non ce la metto Perché se no Sempre io morto Praticamente Non ce la metto Apposta E dai Ero appena tornato Arma del grande Enderman Mi piacciono queste descrizioni Perché sono piene Di cuore Di amore Di tutto Sì Bellissime Taglieti dalla creative Posso leggere La descrizione Arma della fire Io prima a leggere Sono un lettore Mi scoccio a scrivere Fire wizard Tanto fuoco In quest'arma magica E sembra Cioè proprio Tanto fuoco In quest'arma magica Tanto fuoco Dai pronto Pronto Non farmi male Sì sì Un colpo Una tenata Ma siete capaci Di fare un'arma Che non one shot Non siete capaci Sì quella libertà Di mezzo Di scura Cioè Ma neanche se me la spammo Quella Che tanto Un colpo Buoglio Un colpo Come fai E come fai Però dai E' carina Guardate Fa le particelle Della zucca Ma per carità Sì sì ma è carina Pure ghista E fa i blocchi Di doro Che volano No no Sono veramente Carine come armi Ragazzi Sono veramente Tutte carine Quindi oggi Vi ho fatto vedere Quattro armi Vabbè perché Uno ne aveva due Poi E perché sapevo Che l'attivizzatore Era un'arma Che ci voleva A mezzo secondo Da vederla Dunque ragazzi Spero che L'episodio Vi possa essere Piaciuto Vi ricordo Di lasciare Poi Se vi piacere Questo video Vi ricordo Di non lasciarlo Se non vi è piaciuto Questo video Commentatelo Condividetelo Dovunque Anche accesso Mi raccomando E niente Una premessa Questo video Quando uscirà Se riesco Fin settimana Sabato Domenica Se riesco Allora ragazzi Lo conoscete Romics Ecco Cioè dal 6 al 9 Davids sarà lì Se tutto va bene Quindi se volete fare Una foto con lui L'autografo Così Dovete cercarlo Passerà la guardia di finanza Che vuole l'autografo da me Passerà Sicuro Però anche la finanza Può venire E chiederti l'autografo Una foto di segnalazione Se vuole Anche Quella probabile Quella forse c'è già in giro Comunque ragazzi Quindi se venite Comunque ricordatevi Che c'è Cos'è che c'era? Cos'è che c'era? Cosa abbiamo detto A inizio video? Ah La cosa nascosta Dittemi La cosa nascosta Il dettaglio diverso Dai soldi di video Che può essere L'hub ovviamente no Sapete com'è Avete appena vista Ma tutto il resto Dittemi cos'è la cosa diversa Nella zona delle armi personali Esatto Nella zona delle armi personali C'è una cosa diversa Dittemi cos'è Che è cambiata dall'altra volta Quindi c'è una cosa Nuova del tutto Non è quella Quindi ragazzi Direi che questo è il mondo Dici come vi sembra per ora E niente Per il momento Possiamo dire Che è Finita Vedi le sale cose Quando dobbiamo far vedere le armi Le cose Survivor Ti ammazzo Invece quando devi fare il finale Va bene Dai è finita ragazzi Alla prossima Ciao ciao Bella 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 che me spara Che me spara